Promobol Sanitars porta a casa una vittoria sudata e meritata nel derby bresciano contro la palla-volo femminile Villanuova nella quindicesima giornata di ritorno di Serie C FIPA, valida per il girone D. Una vittoria arrivata solo al tie-break e dopo una rimonta che dimostra il valore della forza in campo messa dalla squadra di Flero. Ad inizio gara Taramelli schiera Papa e Giacomini, Migliojkovic e Marinoni come schiacciatori, Basalare e Gannar al centro e Zanetti libero. Sono subito aggressive le ragazze di Flero al servizio con una Marinoni distruttiva con le sue battute salto-spin. Villanuova però combatte e riesce a tenere il passo della Promobol. L'inesperienza delle giovani fileresi porta Villanuova al sorpasso su 6-8. Una Marinoni particolarmente brillante in attacco riesce a tenere in partita Promobol sul 10-10. Diversi errori permettono a rival Sabine un allungo e sul 10-14 Taramelli ferma la partita con il suo primo time-out. Migliojkovic mette a terra la palla del 13-16 momento in cui Taramelli effettua anche il doppio cambio dando spazio a Di Giulio per Giacomini e a Salvetti per Papa. Le fileresi commettono molti errori e non riescono a sviluppare il loro gioco anche a causa della maggiore aggressività delle ragazze di Villanuova. Il risultato è sbloccato soltanto da un pallonetto di Marinoni prima di andare a servizio. Questa volta però il suo turno di servizio termina subito con un errore. La squadra non riesce a girare Taramelli tenta un altro time-out sul 15-22. Sul finale di set le fileresi diventano più cattive inducendo anche Tiberti, allenatore ospite, a chiedere un time-out sul 18-22. Con Salvetti arriva il punto del 20-23 che fa sperare le ragazze della Promobol. Un doppio errore però consegna il set nelle mani del Villanuova per il 20-25 definitivo per la conquista del primo tempo. All'inizio del secondo set Promobol schiera in campo Di Giulio e Salvetti, Marinoni e Turin ai lati, Basalari e Piantoni al centro e Bertoletti libero. E ancora Marinoni a mettere a terra i primi palloni del set. La Villanuova e efficace al servizio si porta avanti ma la Promobol mette a segno il muro che permette di arrivare al pareggio. A questo punto Papa entra al servizio al posto di Salvetti e Giacomini al posto di Di Giulio. La squadra sembra funzionare e arriva il sorpasso sul 6-4. Ferrara, la centrale ospite dopo essere stata murata, mette a terra la pala del 6-5 e va al servizio. Un altro pallonetto di Marinoni riporta in vantaggio le Fleresi che non smettono di costruire azioni interessanti. La battuta tesa del Villanuova manda un po' in crisi. La ricezione e la costruzione del gioco delle Fleresi che si fanno raggiungere e sorpassare sul 9-14. Con Giacomini al servizio Promobol mette in fila qualche punto e sembra tornare in partita. Di nuovo il servizio del Villanuova mette in difficoltà le Tigri che subiscono un break negativo, arrivando al 12-19, costringendo Taramelli a richiamare alla panchina le sue ragazze. La situazione però non migliora e tornano in campo Salvetti di Giulio al posto di Giacomini e Papa. Ancora una volta a fine set le Tigri guadagnano qualche buona azione ma commettono un errore al servizio. È la volta del doppio cambio per Villanuova che risulta azzeccato permettendo la vittoria anche di questo parziale per 15-25. Il terzo set segna la svolta in questa gara particolare per le Fleresi che partono con Papa opposto a Giacomini, Marinoni e Meliojkovic come laterali, Basalari e Piantoni al centro con Bertoletti libero. Dopo una lunga azione portata a casa dalle locali Piantoni firma il sorpasso con un ace sul 3-2. Le azioni vincenti si alterano ma Promobol mette la freccia con Basalari al servizio e scappa via sul 9-5. Tiberti chiede timeout lamentandosi dei continui errori delle sue ragazze. In questo attimo della gara il buon momento di forma della Promobol sembra interrompersi con le Fleresi che si fanno raggiungere sul 10-10. Entrambe le formazioni mettono in atto belle giocate e si alterano nella conduzione del parziale. Con Giacomini al servizio salto spin la Promobol macina punti con prepotenza anche grazie ad un muro molto efficace fino al 21-15. Una serie di attacchi fruttuosi di Marinoni porta Promobol set point messo a terra poi da Giacomini con il terzo tempo che finisce 25-17 per i locali. All'inizio del quarto set Taramelli schiera Giacomini opposta Papa, Piantoni e Basalari al centro con Bertoletti libero, Marinoni e Miliojkovic bande. Arriva subito un doppio muro di Giacomini ma Villanuova riesce a prendere il comando e ancora Giacomini al servizio salto spin a fare male alla ricezione delle vassabine e riportare in parità la gara sul 9-9. È il turno di Promobol a condurre la gara sul 14-12 ma Villanuova non molle e riporta l'equilibrio sul 15-15. Ancora una volta Giacomini con la sua battuta salto spin a regalare punti alla sua squadra arrivando fino al 19-15. Sul 20-17 Villanuova innesta il doppio cambio ma Basalari mette a terra la palla arrivando a 21-17. Il ventitresimo punto della Promobol è messo in discussione dall'allenatore ospite che si innervosisce e guadagna un giallo per proteste al punto successivo subito. Promobol sul 24-18 non può fare altro che mettere a segno il punto del 25-18 portando la gara in parità di set sul 2-2. Ma ecco il set decisivo il tie break il più emozionante della gara. Promobol parte ancora con Papa opposta a Giacomini, Miglioicovic e Marinoni come lati, Piantoni Basalari al centro con Bertoletti libero. Promobol parte forte 2-0 e continua a macinare il gioco. Sul 5-1 Tiberti chiama le sue ragazze alla panchina ma prosegue il momento positivo per Promobol. Il Villanuova si riprende e torna in partita arrivando a 7-6. Il cambio campo del tie break avviene sull'8-6 per le locali complice una disattenzione delle ospiti. In questo frangente arriva un brutto e breve momento per le fleresi che si fanno raggiungere e superare. Sull'8-9 Taramelli chiama time out e Marinoni metta a terra la pala del 9-9. Il brillante servizio di Basalari mette in difficoltà la ricezione del Villanuova consentendo la ricostruzione delle locali che macinano punti arrivando sul 13-10. Il set è molto combattuto con le squadre che tornano in parità arrivando dal 13-13. A questo punto Taramelli inserisce Salvetti e Di Giulio al posto di Papa e Giacomini e la Promobol conquista il punto del 14-13. Villanuova pareggia ma Giacomini mette a terra la pala del 15-14. Il parziale prosegue ai vantaggi con Piantoni che con un ace chiude il set e partita con il punteggio di 17-15 e una Promobol che torna finalmente alla vittoria dopo una gara combattutissima al Cardio Palma.